Stefano De Martino svela cosa è successo dopo l'addio alla moglie Belen Rodriguez. La verità si scopre solo ora Stefano De Martino, è un volto televisivo che sta diventando sempre più amato. Da ex ballerino di Amici, talent in cui ha trionfato nel 2010 e in cui poi ha rivestito il ruolo di professionista e giudice. Ora la sua carriera è tutta concentrata sulla conduzione di programmi televisivi di successo Approdato in Rai per condurre programmi in seconda serata. La prossima stagione televisiva lo vedrà protagonista in discusso del palinsesto in prima serata È certo che condurrà affari tuoi al posto di Amadeus. E non c'è dubbio che la sua carriera sembra destinata ad andare avanti ancora per tanto tempo Dopo l'addio a Belen Rodriguez, a Stefano De Martino è successa una cosa che gli ha cambiato la vita come mai avrebbe immaginato Cosa è successo dopo l'addio fra Stefano De Martino e Belen Rodriguez? A lui gli è cambiata la vita Stefano De Martino ha conosciuto Belen Rodriguez nel 2012, proprio durante la sua partecipazione ad Amici Da allora, fra vari tira e molla, si sono sposati nel 2013 e hanno avuto anche un figlio, Santiago Attualmente non stanno più insieme, anche se sono rimasti comunque in buoni rapporti per il bene del figlio Stefano De Martino ora non è più considerato, l'ex marito di Belen, o, l'ex ballerino di Amici Adesso è entrato a far parte in pianta stabile del gruppo di conduttori più in vista della Rai, mostrando a tutti quanto vale davvero La Rai l'ha voluto blindare con un contratto di 4 anni, proprio per correre ai ripari dopo l'addio di Amadeus che è passato al 9 Una novità che rivoluziona la vita del conduttore napoletano, il quale, sarà impegnato per la direzione intrattenimento prime time nelle fasce pregiate di Rai 1 e Rai 2 Non si esclude che possa partecipare anche al Festival di Sanremo, al fianco di Carlo Conti, conduttore confermato per le prossime due edizioni Intanto Stefano si gode i complimenti dell'amministratore delegato Roberto Sergio e del direttore generale Giampaolo Rossi per gli ottimi risultati raggiunti in questa stagione su Rai 2 Con la trasmissione stasera tutto è possibile. Il comedy show in cui De Martino ha preso il posto di Amadeus dalla quinta edizione nel 2019 La carriera di Stefano De Martino è in continua crescita dopo Made in Sud e Bar Stella Per tutti è l'erede designato di Amadeus. In amore invece il percorso con Belen è stato più tortuoso ma si può dire che da quando si sono lasciati, la carriera di Stefano è decollata